Buongiorno, le platte del giorno, ingradiante 4 E, apportatele, bravo, mezzo litro di E, apportatele, bravo, un patate di E, apportatele, bravo, muscolamento, velocemente, e maintenant le notre platte del giorno, tonno mare aperto, forte, buono, sincero, tonno mare aperto, aperto come te, aqualala, lascia le mangiare alle francese. Grazie.